Bene, siamo arrivati alla fine. Bene, pari sì, ma sempre gentili uomini, con le nostre ragazze. Credo veramente che sia stata una serata splendida, un viaggio fantastico tra un futuro meritevole di essere venuto sotto osservazione attenta e un passato dal quale continuare ad attingere per comprendere il futuro. Grazie alle nostre due premiate, due reali, permetto di dire, fuoriclasse nei rispettivi settori. Grazie. Tiziana D'Angelo, Cinza Zuffada. Grazie a tutti.